Ragazzi, prima di lasciarvi al video, volevo dirvi delle cose. Praticamente questo video l'ho registrato prima, no, dopo, prima, sto così, dopo essere andato al mare, quindi ero stanchissimo e quindi non potete ascoltare la mia voce. Prima cosa parlavo piano, terza cosa ero troppo stanco, quindi sì. E quindi in questo video non ci sarà la mia voce, spero che vi piacerà lo stesso e ragazzi, buona visione. Ah, comunque lasciate like lo stesso per questo video. Praticamente, sì, cosa stavo dicendo, non si sa. Lasciate 20 like per il prossimo episodio e noi, no, e noi nulla. E lascio il video. Bella. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.